Il Budget Cup è un insieme di regole che disciplinano le finanze dei team di Formula 1 ai fini di garantire la competitività e lo spettacolo nei campionati. È entrato in vigore il 1 gennaio 2021 e il documento che contiene queste regole si chiama Formula 1 Financial Regulation che stabilisce un tetto di spesa limite pari a 145 milioni di dollari a partire dalla stagione 2021, limite che poi scende di 5 milioni ogni anno passando a 140 milioni nel 2022 e 135 nel 2023. C'è una postilla che prevede delle eccezioni. Il limite di spesa annuo, le cifre che vi ho citato poco fa, sono relative qualora in calendario ci sono 21 gare. Quindi si prevede che ogni aggiunta alle 21 gare si aggiungano 1,2 milioni di dollari. Per cui, per capirci, nel 2023, anno in cui saranno 24 gare, dovranno essere aggiunte un totale di 3,6 milioni di dollari al budget del 2023. Poi ci sono altre eccezioni emerse in quest'anno, quest'anno, che sono, diciamo, degli adattamenti a seguito del conflitto in Ucraina e delle inflazioni. In questo limite di spesa annuo, i team devono rispettare una percentuale massima da ripartire su tale cifra. Il 35% riguarda il costo del lavoro, il 20% in sviluppi imprevisti e il 45% in spese produttive. I documenti di spesa periodici devono essere mandati dai team alla federazione che poi ne esamina la regolarità. I documenti di spesa periodica